Avete tre giorni, non sento dei passi, sento solo il rumore dell'acqua, non avevo ricordi, senza neanche nascend'altro. Avete tre giorni, non aveva mai tre giorni, non pensare ci potrebbe decenni se apposto avanti, ora messi tre occhi per trovare quel poco di luce che mi esce a cambiare. Andi, non pensare ci potrebbe decenni se apposto avanti, ora messi a cambiare e non pensare ci potrebbe decenni se apposto avanti, invece non pensare ci potrebbe decenni se apposto avanti. tempo da parte del piano che taglia ma si toglie oh 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 perché è sempre così che non vincere con te se non si è ancora che non vincere ma non vincere stanno di me oh ma poter cercare più stupire scusa però che non ci casco io così mi scrivo e per fare la scuola e per il cuore che salti ogni volta che guarda che stai con il peggio e per il piano che prendi se ci asci mi haежду se ci siamo niente e il dino un senso di mondo che possa aiutarti a saltare con un punto d'un cognato e di riasco Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie a tutti Grazie a tutti